Quattro contro due realizzazioni Tasta il dischetto Buffon Vai Gigi Contro Villi Sagnolo Dentro Quattro Il destino da Fabio Grosso La più grande opportunità della sua vita calcistica Ci vuole calma, forza, determinazione Vai Il batticuore sale Non farti cogliere di sorpresa Dal 7 maggio all'8 giugno la regione Puglia passerà al digitale terrestre Per usufruire di una migliore qualità dell'immagine E di una maggiore offerta di contenuti Dovrai dotarti di un televisore di nuova generazione Con decoder incluso O di un decoder digitale da collegare alla tua vecchia TV Per maggiori informazioni rivolgiti al numero verde O consulta il sito web della regione Puglia Pedagio